Soddisfatto per la riconferma alla carica di Presidente dei Cogevo, Consorzio e Gestione Molluschi Bivalvi di Chioggia, Michele Boscolo Marchi, rieletto quasi all'unanimità, ottenendo 70 preferenze sui 76 voti disponibili. E ciò nonostante le difficoltà del mandato appena concluso, iniziato col Covid, terminato con una guerra in corso, passando attraverso morie di risorsa e caro carburante. Un settore con un'economia in difficoltà, ma che ha compreso l'importanza della gestione per poter preservare prodotto, lavoro e ambiente. Nella gestione di Marchi è rientrata la campagna di acquisto di semina da altre aree dell'Adriatico, per provare a rafforzare le vongole e camalea gallina nostrane, per dar loro una possibilità in più per vederle crescere, e nel frattempo riuscendo a mantenere la deroga da parte dell'Europa per quelle mature, ma ancora di taglia inferiore rispetto allo standard. Per il nuovo triennio Marchi ha già cominciato a seminare e siamo riusciti a intervistarlo mentre andava a Roma al congresso della Lega Copa Agroalimentare. La fiducia ottenuta dai suoi colleghi piscatori è importante in quanto permette di lavorare al meglio e di mettersi a disposizione delle istituzioni a tutti i livelli, comunale, regionale e anche europeo, forte del sostegno della categoria. Con gratulazioni gli sono arrivate anche dall'eurodeputata Rosana Conte, in Commissione Pesca nel Parlamento Europeo, e dal consigliere regionale Jonathan Montanariello. C'è un ampio programma da portare avanti, ci ha confermato Marchi, tra i progetti il continuare a monitorare la situazione per tenere sotto controllo la misura delle vongole, in quanto, seppur la deroga è stata confermata, resta sempre una spada di Damocle sul capo della categoria. Sono stati forse i peggiori tre anni da un punto di vista economico e imprenditoriale, ma si comincia a parlare, incrociando le dita e facendo tutti gli scongiuri del caso, di una cauta ripartenza. Il prezzo del prodotto al momento sembra mettere tutti d'accordo e a breve, con la primavera alle porte, si dovrebbe parlare di un miglioramento. Il prodotto soffre, ci spiega Marchi, con cognizione di causa dovuta soprattutto all'esperienza per varie concause, a partire dal cambiamento climatico, agli inquinamenti noti o meno noti, come l'inquinamento da FAS, che fino a poco tempo fa non era normato, e anche alla depurazione, che ci porta ad avere un mare limpido ma privo di quei microorganismi che sono alimento per varie specie animali e che, mancando, interrompe un anello della catena alimentare. Non sono da dimenticare i cambiamenti sottomarini, dovuti ai cambi delle correnti, ottenuti con la realizzazione delle protezioni per la salvaguardia dei litorali. Mose e Lunate hanno provocato la fine delle nursery di Vongole agli scanni di San Pietro e San Martino e allo scanno a largo del Lido, adiacente alla Lunata. Le nuove correnti hanno fatto sparire tutto, ha detto Marchi. Sei consapevoli del lavoro che ora bisogna fare per mantenere i piani di gestione per tutto ciò che è necessario al settore, conclude Marchi, ma con trasparenza, fiducia e onestà si farà il meglio. I problemi si conoscono per cognizione di causa, afferma, non per sentito dire. Uscendo in mare con gli altri colleghi li conosco benissimo. Tante cose sono cambiate, è cambiato proprio il modo di lavorare facendo gestione. Ora farò di tutto per meritare la fiducia che in tanti mi hanno riconfermato e che ringrazio. Grazie a tutti.